sapete ragazzi quando si dice solitamente raschiare il fondo del barile questa parola solitamente si utilizza quando ormai abbiamo raggiunto il fondo delle cose e sembra che oltre questo livello non si possa andare anzi l'unica cosa che una persona può fare o una situazione è ovviamente cambiare e risalire dunque una volta toccato il fondo si ritorna in auge non per battlefield 5 perché la patch che è stata rilasciata ieri 25 giugno ha portato tanti nuovi problemi che anche a pensarci a ragionarci tutti quanti assieme possiamo chiaramente capire quanto siano prima di tutto ridicoli e quanto prima di tutto possono dar fastidio a chi ha speso tanti soldi per questo titolo partiamo dalle fondamenta in poche parole la patch era stata rilasciata da poco e pavoneggiando il fattore che avevano risolto molti problemi tra cui per esempio il frame lag dovuto a esplosioni o heat o quando noi facciamo fuoco ma attenzione solamente nella modalità firestorm che nessuno ci gioca anche se la gente pensa di dire che la modalità firestorm la battle royale sia la più giocata di battlefield non penso che il core portante di questo titolo sia la battle royale ma si hanno tutte le altre modalità che tengono salde ancora la community o comunque la fan base a quella che è lo stile classico del gioco e va bene dunque non hanno risolto i problemi di frame lag nelle partite di tutte le altre modalità ma solamente sulla battle royale perché evidentemente è più importante delle altre e va bene hanno detto che avevano risolto il problema del rumore del motore dell'aeroplano continuamente presente all'interno delle partite beh semplicemente lo hanno sostituito come ha detto anche Battlefield Ballet in un modo molto allegorico lo hanno semplicemente sostituito con il rumore del motore in fiamme ovvero quando ora un aeroplano si schianta al suolo il rumore delle fiamme prodotte dalla carcassa o dal metallo che scricchia o quant'altro sarà permanentemente presente nelle nostre orecchie finché questo oggetto, questo prompt di mappa, cioè la carcassa stessa non verrà despawnata e passerà nello spawn o comunque scomparirà dal gioco perché dopo un tot le cose si tolgono e scompaiono quindi ok, bene altra cosa impazzesca e allucinante è aumentato l'eat reg quindi il problema dell'eat reg legato agli heat marker che non vengono registrati e gli aeroplani ora sono stati completamente sminchiati in più è sorto un nuovissimo e potentissimo bug di merda legato allo stuca tedesco ora tutti i modelli di stuca hanno pressoché immortalità dietro alla propria coda infatti sia durante la live su Twitch che quelli che potrebbero essere altri video presenti sul web si può vedere chiaramente che anche se si va dietro alla coda di uno stuca nemico con un moschito, dunque utilizzando il cannone anticarro posto sotto al muso del moschito stesso anche se lo colpiamo 4, 5, 6 volte consecutivamente con heat in pieno vedremo unicamente uscire scintille e fumo senza heat registrato effettivamente questa cosa è dovuta ovviamente a un bellissimo bug collegato alla heat box completa dello stuca che può essere colpito unicamente sulle ali o a fianco della carena dell'aeroplano se noi continuiamo a colpire nella coda dove solitamente gli aeroplani si pongono per poter distruggere il proprio avversario lo stuca è immortale e cosa fa la community di merda secondo voi? ma certo ragazzi! ora abbiamo i server pieni di gente che utilizza lo stuca perché? perché ovviamente standosene tranquillamente in, possiamo dire, in virata verticale vengono praticamente immunizzati da quello che è il danno fatto da antiaeree e aeroplani avversari perché finché dai la coda all'avversario non ricevi danno quindi brava DICE! complimenti! brava DICE! continuiamo in questo modo che sicuramente miglioreremo il titolo ancora di più ennesimo bug bellissimo sono stati rintrodotti gli uomini invisibili ora non avremo più un effetto di una texture duidimensionale nera che diventa quasi invisibile nell'ambiente circostante ma avremo i soldati con la testa e l'arma principale fluttuante mentre il resto del corpo è completamente invisibile o è completamente invisibile scusate o a seconda del tipo di skin che sta utilizzando la persona per esempio le skin si possono notare quelle con i cappotti lunghi che arrivano fino ai piedi li vedremo tranquillamente solo la testa, il fucile e lo strascico di quello che è il giubbotto mentre le gambe, il torace e le braccia saranno invisibili io ragazzi non lo so, io non capisco, non capisco ma come abbiamo detto anche più di una volta nella live a mio avviso a DICE non ne frega più un cazzo di Battlefield V perché il loro obiettivo ora è pubblicare le skin elite le skin elite sono la cosa più importante per questa software house loro si stanno concentrando, anima e corpo, nel produrre le skin che saranno unicamente acquistabili con crediti reali, cioè con soldi veri infatti sia su Twitter che su Reddit è uscita la notizia ufficiale di una persona che si è fatta avanti nella nostra community chiedendo a uno dei direttori di DICE quando mai le skin epiche, quelle leggendarie, cioè le elite ovvero le skin di Hans, la donna inglese della resistenza il tedesco con la faccia completamente sfigurata e quant'altro oltre a essere acquistabili con soldi veri potevano essere acquistati con i crediti di gioco dunque i Battlefield Point anzi meglio, non scusate i Battlefield Point ma la currency di gioco, ovvero i crediti di battaglia quest'utente ha ricevuto una bellissima risposta schietta, fredda, cruda, senza anima da parte dello sviluppatore DICE che ha detto, ma voi non avete capito nulla le skin elite, fin dalla loro origine da cui abbiamo deciso di introdurle all'interno del gioco saranno solamente e unicamente acquistabili con soldi reali perché queste skin racchiudono la forza e la potenza nonché la precisione e la passione artistica del nostro studio e dei nostri art designer tant'è che giustamente si impegnano ogni santa volta a creare un trailer di presentazione per ogni soldato d'elite che viene introdotto all'interno del gioco ma ribadiamo l'e-track generale il netcode i cararmati sbilanciati le armi sbilanciate possiamo dire ormai anche gli aerei sbilanciati le mappe sbilanciate tutto il resto passa in secondo piano ormai è più importante concentrarsi su queste cose secondarie futili inutili e stupide piuttosto che concentrarsi nel salvare il salvabile da un gioco che ormai ha toccato il fondo del barile lo sta raschiando con le unghie e ormai i denti e se continuerà di questo passo riuscirà tranquillamente a distruggere questo barile e a toccare il suolo dopodiché bisogna vedere quanti della community saranno rimasti a sopportare questo scempio detto questo noi ci vediamo alla prossima oh yes brecci oh yes